Non esiste nessun altro uomo di cui ti possa innamorare. Già. Sai, qualche volta mi domando... Cosa? Beh... Se io non fossi stato alla mega libreria Fox e tu non fossi stata al negozio dietro l'angolo e ci fossimo conosciuti per caso... Lo so. Già. Ti avrei chiesto il numero di telefono. E non sarai stato capace di aspettare neanche 24 ore prima di chiamarti e dirti senti perché... Non ci vediamo per un caffè o... Anche per un drink o per cena o per un cinema. Finché morte non ci separi? Joe. Io e te non saremmo mai stati in guerra. E avremmo litigato solo per quale videocassetta noleggiare il sabato sera. Ma chi litiga per certe cose? Certi lo fanno. Noi no. Noi no, Mai. Sei solo. Senti, devo andare. Fammi chiedere una cosa. Come fai a perdonare questo tizio che ti ha dato buca e non riesci a perdonare me per quella sciocchezza? Per averti fatto fallire. Quanto vorrei che lo facessi. Adesso devo proprio andare. Già. Non vorrei fare tardi. Non vorrei fare tardi. Allora. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.